Vertenze interminabili, rese ancor più complicate dall'emergenza coronavirus. Per GSW ed ex-backer di Figline Valdarno scende in campo il governo. Una delegazione dell'esecutivo, mercoledì, sarà nelle acciaierie di Piombino per mostrare la propria vicinanza ai lavoratori. Della delegazione farà parte anche Alessia Morani, sottosegretaria allo sviluppo economico, che ospite di primo piano ha confermato la volontà di Gindal di presentare il piano industriale entro due settimane. Abbiamo avuto un confronto con Mr. Gindal, la proprietà di GSW Italy, proprio la settimana scorsa con il ministro Patuanelli. Riteniamo che questo incontro sia andato bene perché Gindal stesso ha confermato la volontà di voler continuare ad investire sul sito di Piombino e questo per noi era fondamentale. e soprattutto nelle prossime due settimane verrà presentato il piano industriale. Il governo monitora attentamente anche la situazione della ex-backer dove un gruppo di dipendenti, per primo, ha costituito una cooperativa per provare a portare avanti la produzione, iniziativa poi intrapresa dai lavoratori in molte altre vertenze. Il progetto che ci è stato presentato da una parte dei lavoratori è considerato dal governo come una possibilità che possa essere integrata assieme a quella della reindustrializzazione attraverso l'investitore.